ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come in posa su un terrazzo a dubai wiki varga è un vero spettacolo e una gioia per gli occhi dei suoi tantissimi follower il look da urlo esalta un corpo magnifico torna a catturare l'attenzione dei suoi affezionati e tantissimi fan con la sua straordinaria bellezza e il suo fisico mozzafiato stiamo parlando dell'incantevole wiki varga ieri sera sul suo profilo instagram ha pubblicato un set di foto che come al solito la ritrae in forma smagliante più bella che mai con la sua assurda sensualità ha steso davvero tutti nel set di foto la meravigliosa modella ungherese è a dubai su un terrazzo il panorama alle sue spalle è incantevole ma il vero spettacolo per i suoi seguaci è proprio lei questi infatti non riuscivano più a toglierle gli occhi di dosso ammirandola in tutta la sua magnifica bellezza e sensualità sono subito andati fuori di testa wiki varga indossa short cortissimi che le lasciano totalmente scoperte le sue fantastiche gambe sopra la giacca corta resta aperta e sotto indossa uno dei bikini della sua collezione vama l'outfit mette bene in evidenza la sua invidiabile silhouette in posa guarda la fotocamera con un'ammaliante travolgente espressione che ha steso proprio tutti i suoi seguaci anche questa volta l'hanno riempita di complimenti e lì che non perdono mai occasione per ricordarle quanto sia meravigliosa la venerano per l'ennesima volta vicky varga piacevolmente catturato l'attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano questi infatti non appena l'hanno vista sono rimasti a bocca aperta e non hanno potuto fare altro che riempirla di complimenti e lì che d'altronde davanti a così tanta sensualità e alle sue curve da sogno è impossibile per i suoi tantissimi fan non notarla è bella da togliere il fiato e lady pellè basta mostrarsi per far perdere la testa a tutti quando però si mostra super seducente e provocante ipnotizza totalmente il web tantissimi sono gli scatti piccanti che pubblica sul suo profilo instagram per lasciare senza parole i suoi affezionati e tantissimi follower la sua infinita bellezza e le sue curve stupende in bella mostra fanno impazzire chiunque anche il set di foto pubblicato nella serata di ieri ha fatto subito il boom di apprezzamenti e lì che in posa sul terrazzo a dubai è un vero spettacolo i minuscoli short evidenziano gambe mozzafiato sopra invece indossa sotto la giacca un bikini che mette in risalto le sue forme da paura il suo corpo è davvero pazzesco di chi varga è favolosa anche questa volta ammaliato il web grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video